Una delle punte della Vini Fantini Selle Italia è il trevigiano Oscar Gatto. Lo ricordiamo campione d'Italia di ciclocross tra gli esordienti, ha vinto molto nelle categorie giovanili, è stato azzurro da junior tra gli under 23 e tra i professionisti. Sentiamo cosa ne pensa di lui il direttore sportivo, Luca Scinto. Lo voglio che parti bene, il suo primo appuntamento importante sarà l'eroica, anzi, e Folk e Courne, che siamo l'unica squadra italiana a partecipare a queste due corse importanti in Belgio. È un corridore che mi aspetto il saltino di qualità. 28 anni, è l'ora che Oscar Gatto diventi quel corridore che io credo che abbia le caratteristiche di farlo. Sta a lui e non ci sono più scuse. Credo che sia, se a noi si dice sempre, c'è uno scalino da fare. O diventare un corridore normale, fare la carriera, però un corridore che vinci tre o quattro corse l'anno, però sei un corridore normale, buono ma normale. O diventare un corridore che riesce a vincere una tappa al giro, una classica, e altri tre o quattro corse nel calendario, allora cominci già a essere un ottimo corridore. Oscar Gatto, il primo gennaio hai compiuto 28 anni. Il tuo direttore sportivo, Luca Scinto, sostiene che tu sei ad un bivio. O continuare ad essere un corridore da tre o quattro vittorie all'anno, o diventare un campione da sei o sette successi a stagione, sei o sette vittorie, comprese un paio di classiche di prestigio. Te la senti di compiere il salto di qualità? Da parte mia c'è sicuramente questa voglia di compierlo questo passo. Non è sicuramente facile, posso contare sicuramente in Luca, che crede forte in me, lui e anche tutta la squadra, quindi questo è sicuramente un punto a mio favore. Non è proprio facile, facile, però ripeto, da parte mia c'è questa voglia, sto lavorando al meglio e quindi spero di arrivare a fare questo salto. Lui ti chiede di essere molto competitivo già in marzo e in aprile. Questo, ripeto, sto lavorando bene e sono convinto di essere già in forma per questo periodo. Ho lavorato bene anche in Argentina e adesso, insomma, vedendo anche come vado in allenamento, secondo me, anche già per l'Aigueglia dovrei arrivare con una discreta condizione abbastanza buona. Tu a Tropea al Giro d'Italia del 2011 hai vinto la tappa staccando di ruota Contador nel finale. Sei stato eccezionale. Quello è lo scargato da salto di qualità? Sì, sicuramente quello là è stato il primo passo verso magari lo scargato che è adesso. Però, come dice sempre Luca, bisogna che quelle azioni, che quelle vittorie diventino più frequenti. Magari uno scatto simile sul poggio di Sanremo. Te la sentiresti di farlo il 17 di marzo? Quello là è una cosa che sinceramente ho già pensato più di qualche volta. Niente impossibile, però ci vogliono gambe, ci vogliono coraggio, ci vogliono tante cose. Però il pensiero già è dentro di me. Conosci già il tuo programma da aprile in avanti? Ma adesso si dividerà tra il calendario italiano e quello là in Belgio. Di preciso adesso dire le corse è difficile anche perché magari stiamo aspettando degli inviti. Però posso dire che adesso oltre all'Igueglia ci sarà Letta Folk, Kurn, Eroica, Giro del Lazio. Sì, questi sono tutti appuntamenti della prima parte della stagione. Ma ti hanno già detto se farai il Giro o se parteciperai a qualche altra gara in estate? Beh, il Giro sicuramente fa parte del mio programma. Ripeto, io penso comunque fino alle classiche, fino in teoria al Giro delle Fiandre se siamo invitati. Quindi una volta arrivati al Fiandre si pensa anche per il proseguo della stagione. Tu gareggi su bici M Cipollini con attacco e manubrio FSA. Ti trovi bene con FSA? Sì, mi trovo molto bene perché comunque sono componenti che non mi hanno mai dato problemi leggeri. E comunque anche il manubrio che forse è la cosa più importante. C'è anche una curvatura che è adatta anche alle mie mani. Insomma, mi piace e quindi sicuramente è una buona dita e fa veramente di buoni materiali. Hai mai rotto un manubrio FSA? No, 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 no. Mai rotto e spero proprio neanche che succeda. Grazie. Grazie.